L'omicidio con un giallo che ancora non abbiamo risolto, l'ipotesi della mafia che non abbiamo ancora risolto, è convincente quello che dite te e Meluzzi. Terzo elemento, perché non si può pensare non convincente, l'accoglienza come viene fatta in Italia, va bene? E qui entriamo tutti insieme e arriveremo alla manifestazione perché l'accoglienza ve la racconta la carbone. Perché questo è un altro degli elementi che io non giustifico nessuno che spara, sia chiaro, questo deve stare in galera. Ma il punto è che molti, quella zona grigia che tu hai definito, forse questo servizio ce l'hanno nella loro testa, guardiamolo. Montecassiano, pochi chilometri da Macerata, questo è l'hotel Recina, quattro stelle, dove era ospitato Auelina Laki, uno dei nigeriani indagati per la morte di Pamela Mastropietro, fermato poi a Milano, mentre cercava di raggiungere la Svizzera. Non c'è molta voglia di parlare. Quanto è accaduto nelle ultime due settimane, a Macerata ha toccato un nervo scoperto, tre qui gestori dell'accoglienza, il GUS, Prigeo e AXIM. Il GUS, nato nel 1993, è una onlus con progetti non solo nelle marche, con un movimento di milioni e milioni di euro. In una nota integrativa del bilancio 2016, alla voce proventi dell'attività istituzionale, la cifra è di 26.595.000 euro. Il presidente è Paolo Bernabucci, il coordinatore Giovanni Lattanzi, anche responsabile nazionale delle politiche del welfare del PD. L'ONG era stata oggetto di una mozione in consiglio comunale a firma del capogruppo di Forza Italia Riccardo Sacchi, che chiedeva maggiore trasparenza nei bilanci. Bocciata. Alla base della mozione, l'analisi dei due esperti, l'analista finanziario Massimo Raparo e il commercialista Raffaele Pallotto. Ho dei punti interrogativi in riferimento al carattere di trasparenza di questi documenti, cioè secondo me vanno approfonditi e non sono poi così trasparenti. Ci sono soldi di tutti, quindi è corretto essere al massimo trasparenti anche nel loro interesse. Noi siamo andati a chiedere direttamente ai responsabili del GUS queste alcune delle questioni su cui volevamo spiegazioni. Bilancio 2014, donazioni in uscita 123.545. Ma donazioni a chi? Erogazioni liberali 82.167. Volevamo capire di che cosa si trattasse. Veniamo ricevuti dal Presidente, ci viene accordata un'intervista, ma di fronte a domande specifiche sulle voci di bilancio ci viene chiesto di aspettare mezz'ora. Scusateci, dice il Presidente, devo chiederlo al commercialista, ma ci vuole molto più di mezz'ora, con una telefonata l'appuntamento viene spostato al giorno seguente. Torniamo, ma invece con chiarimento troviamo l'avvocato della ONLUS, che sconsiglia al Presidente di rilasciare l'intervista. Consiglio accettato, ci dicono di rivolgerci direttamente al commercialista, ma da lui nessuna risposta. Della ONLUS si sono occupate sia l'Agenzia delle Entrate, sia la Finanza, che si è soffermata su presunte irregolarità e ha sollecitato, con un'informativa di oltre un anno fa, sequestri preventivi per oltre 10 milioni di euro. Ma il GUS non è l'unica a essere passata sotto il controllo della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate. Così andiamo anche all'Axim. Vorrei che voi parlate con l'avvocato che lo sta seguendo. Proviamo anche con Perigeo. Una normale contestazione che viene fatta dall'Agenzia delle Entrate. Non ci sono né denunce, né aspetti penali, niente di quello che è stato scritto su alcuni giornali.